Noi facciamo una frittella di baccalà mantecato, con farina di castagne e all'interno una mela brasata. È buono? Tutti i piatti che facciamo a noi sono buoni. Ah, mi piace. Sicuro? Ogni tanto sì, ogni tanto no. E che birra si abbina? La Moretti Gran Cru. Sei al ristorante e stai mangiando la frittella di baccalà mantecato mentre bevi la birra Moretti Gran Cru. Che situazione ti viene in mente? Penso a mio nonno. Mio nonno faceva questo piatto, quindi un piatto dedicato a lui e tra l'altro era anche un buon bevitore di birra e quindi ci sta proprio tutto. Perché questa specialità di birra Moretti è particolarmente adatta al tuo abbinamento? Perché accompagna il sapore del piatto senza pesantirlo troppo e quindi non vai a perdere il gusto del piatto. La Moretti Gran Cru secondo me raccoglie proprio tutto, asciuga, fa proprio il suo lavoro su questo piatto. Diciamo qualcosa al sommelier. Hai messo la birra in fresco? Mostra.